E' la storia di un uomo, cacciatore di donne, lui voleva la bella, la bella di Sant'Omè. Arriva un giorno, un uomo bello e solo, era di sera ed impuniva già, affari accesi con la sua auto rossa. Fermo davanti al circolo culturale, tutte le donne si misero a guardare. Questo bell'uomo sembra cercare qualcuno, qui hanno detto che c'è una donna bella da fare impazzire, nome segreto si fa chiamare bella di Sant'Omè. E continua la storia di quest'uomo audace, riesce poi a trovare la bella di Sant'Omè. Muzica E da quel giorno lui cominciò la caccia, con la sua audacia riuscì a conquistarla. Finisce bene la storia rosa dell'uomo gran cacciatore, sposa la bella, la bella donna, bella di Sant'Omè.